Ciao ragazzi, eccoci qua, siamo in diretta, attenzione intervista Sandrina a uno dei festeggiati Ciao, come ti chiami? Paolo Di dove sei? Castiglione Cosa festeggi? Festeggio il mio 38esimo compagnolo Fantà Amici di Perugia Sono venuti apposta da Perugia Che storia Che storia Sono proprio amicissimi Eccolo qua, un suo amico che viene in primo piano, come ti chiami? Io Enrico, sono un amico di Paolo, il festeggiato E tu chi sei? Io sono Sandrina Piacere Piacere, non vale provarti, con calma, stiamo lavorando Stiamo lavorando Andiamo a scoprire il festeggiato, cosa fa nella vita Ma guardiamo cosa fa nella vita il nostro festeggiato Non faccio niente, io vivo di rendita Fantastico No, la badante no, la badante no, però vivo Sto bene, dai Sto bene Ma come mai hai scritto la canzone di Babbo Natale? Per ridere di vendita Cioè, com'è che fai il video di rendita? Sto bene, cazzo Cioè, c'è un soldi Che bello Degli vestiti Cioè, quella di Bagnolo Mello dice che lei L'hai vista quella di Bagnolo Mello Io sto bene con i soldi Non sono voglia Come te li ami tu, Sandrina Ma devi guardare la tua camera, cazzo No, stavo anche in la mano Ciao Laura Sai chi è Laura? Laura È la festeggiata È festeggiata Non ce l'ha a fare Allora, detto questo Ci prometti che ti diverti tantissimo? Ma vediamo dopo, dai Sì Ma dopo noi ci vediamo Io sono là Dopo ti spiego tutto Finita l'intervista, ok? Dopo ti spiego Ok, dai ragazzi Vieni qua a festeggiato Facciamo un urlo? Facciamo l'urlo, dai A tre Uno Due Tre Hoiii Grazie a tutti!